Quanto all'ostruzionismo, esso va giustamente considerato come un legittimo utilizzo di tutte le facoltà previste nei regolamenti parlamentari ed è uno strumento nelle mani dell'opposizione. Non è una novità questa e non sarà l'ultima occasione che ci troveremo di fronte a un ostruzionismo. D'altro canto non possiamo ignorare il fatto che gli eccessi nella decretazione di urgenza e il restringimento degli spazi per l'iniziativa propria del Parlamento producono uno stato di sofferenza soprattutto per le opposizioni che si sentono come in un certo modo messe all'angolo. Rinnovo l'auspicio che sulle riforme costituzionali si ricerchi e si determini il massimo coinvolgimento di tutte le forze parlamentari e non si ripropongano meccanicamente steccati tra maggioranza e opposizioni.